Anne Rodriguez è stata ospite di Mara Veniere nella puntata di Domenica Inn, trasmessa il 28 marzo. La showgirl è in dolce attesa, alla conduttrice ha spiegato che è al sesto mese e ha ribadito di aspettare una femminuccia. Sono al sesto mese, la pancia è piccina, mangio bene, faccio una dieta equilibrata, faccio una vita tranquilla anche perché non abbiamo molte opzioni. A casa infastidisco tutti perché mi lamento in continuazione, non ce la faccio, non cammino, non mi entrano i pantaloni, però ci dicono che in gravidanza siamo più belle, crediamoci. Ho avuto moltissime nausee, sono stata per tre mesi sul divano praticamente, con Santi non mi è successo così, deve essere il karma, io so che lei me le farà pagare tutte. La figlia di Belen si chiamerà Luna Marie, la showgirl ha ironizzato sul nome prescelto e certa che i suoi fidanzati non potranno mai dimenticarla. La chiameremo Luna Marie, diciamo che chi si fidanzerà con lei farà molta fatica a scordarla perché ogni volta che vedrà la luna ripenserà a lei. Il mio nome invece significa Betlemme, sono felice di questo nome, è molto religioso, in Italia diventa un nome unico ma in Argentina si sente molto spesso. Belen ha parlato anche del suo primo genito Santiago, ha spiegato che il bambino ha accolto benissimo il suo nuovo compagno Antonio Spinalbese, anche perché aveva compreso che le cose con Stefano De Martino non potevano funzionare. I bambini capiscono, Santiago è un bambino speciale, lui ha un'intelligenza superiore, non perché sia mio figlio ma perché gli è capitata. Poi la frecciatina ironica al suo ex marito, Santiago è uguale al padre ma l'intelligenza l'ha presa da me ed è scoppiata a ridere, sto scherzando. Dice quindi, spiegando, io credo che i bambini si rendano conto quando i genitori ce la mettono tutta, quando in una famiglia ci sono dei problemi credo che la famiglia abbia il diritto di riprovarci, anche per i figli. Quando lui ha vissuto questo ritorno con Stefano ha capito che non andava, non era cattiveria, semplicemente non andava. Si rassegnano perché vedono che ce l'hai messa tutta, i figli poi stanno 24 ore su 24 con noi, le madri fanno più fatica a nascondere la sofferenza. Mi ricordo che Santiago bussava la porta, entrava in bagno e mi diceva mamma non ti preoccupare, me ne occupo io. Ci ho messo un bel po' ad essere felice perché la sofferenza partiva da 4 anni fa. Ci ho riprovato ma vedevo che non funzionava, era una frustrazione costante. Quando ha rivisto sorridere la mamma per lui è stata una liberazione, mi ha detto questa persona è giusta e io mi sono fidata di lui. Con Antonino Spinalbese Belen ha ritrovato la felicità, c'è stata subito affinità, dice, potevo parlare ed essere libera di dire qualsiasi cosa con lui, mi ha incantato. Belen ha ammesso di essere una persona non facile da gestire, si ritiene una donna indipendente e dunque non è facile che qualcuno riesca a farle cambiare idea, di certo ha anche le sue fragilità per le quali tende spesso a giustificarsi. Con il tempo dice ho creato un muro così non possono vedere le mie fragilità e farmi del male. Belen è tornata con la mente a quando lasciò l'Argentina per venire in Italia, oggi vede molti ragazzi che stanno facendo la stessa cosa in Italia, che lasciano il nostro paese per realizzare i loro sogni. Senza cadere nel tragico, perché non mi piace sembrare quella che ha salvato la patria, la verità è che in Argentina la situazione era tosta, non c'erano speranze. C'era mia nonna malata, ho provato a restare. Lavoravo da quando avevo 16 anni, il mio primo lavoro è stato dare i volantini per la strada, ho fatto la pizzaiola, la cameriera, di tutto ed ero contenta perché portavo i soldini a casa, però ero ambiziosa, credevo in me stessa, ero convinta che ce l'avrei fatta. A un certo punto ho iniziato a fare la modella, ho fatto un casting con destinazione all'Italia e sono arrivata qui. Ha ricordato la nonna che si mostrava sorridente con lei quando la vedeva partire, ma appena Belen si allontanava piangeva dietro la porta. La showgirl si è commossa ricordandola. Non riesco a parlare, questo succede un po' a tutti quelli che emigrano. Ogni volta che decidi di partire, quando parti con pochi soldini da casa, poi si è fermata di nuovo perché iniziavano a scendere le lacrime. Sono incinta, scusatemi, sono una patata, questa è la verità. Mare Venier ha mandato la pubblicità per permetterle di ricomporsi. Una volta tornati in studio, Belen ha concluso. Ho sacrificato la mia adolescenza, non ho avuto quella di una ragazza normale, ma la mia è stata una decisione personale. Non è che non ci fosse cibo a casa, i miei hanno fatto sacrifici come tutti. Avevo voglia di ricompensarli in qualche modo. Ho pensato sempre a loro. La mia prima volta che tornai in Argentina, lo fici senza dirglielo, comprai un secchio di pittura e un divano nuovo. Tornai a sorpresa, mi feci trovare a casa, avevo pitturato i muri da sola. Poi, ha parlato dell'amore che prova per i suoi genitori. Mio padre è un pezzo raro, è una persona profonda, sensibile. La parte artistica e folle che mi ha consentito di fare carriera viene da lui. È una persona molto romantica. Mia madre invece è razionale, concreta, dimostra l'amore con i gesti. A volte li guardo e dico è strano che stiano insieme, ma come dice la canzone, se stanno insieme ci sarà un perché. Infine, prima di salutare Mara, ha ricevuto un messaggio audio dalla madre, Veronica Cozzani, che l'ha fatta piangere. La mamma è troppo fiera di te, potrai sempre contare su di me e per tutto. Mi piace tanto essere nonna di Santiago e di Luna. Belen ha poi concluso. Io, se non sento per cinque minuti mia madre, impazzisco. Sono dipendente da lei, è una mamma, è una nonna incredibile. Io, se non sento per cinque minuti mia madre, non sento per cinque minuti mia madre, non sento per cinque minuti mia madre. Ciao! Ciao!